E' un pazzo saluto tutti ragazzi, sono pazzi vestiti in questo nuovissimo video Com'è il pazzo vino God questa nostra mia mattina su FIFA vendi è la sfida da Raffatelli nella demo c'è Baris al Germano e la Madrid Casa volute che giocano anche nella realtà in Champions League e quindi la facciamo o no Si, io sono la Madrid e noi parisi al Germano, lasciate i like e iscrivetevi al canale perché è gratis Uhhh, ragazzi non so se siete ma mi sono appena svegliato infatti sono tutta ancora Svegliate però per farmi usci sto video in tempo, mi sono svegliato questo che mi inizia la scuola aiuto Mi sono svegliato alle 6-9 anni Io mi sono svegliato al mezzogiorno Tanti like ragazzi, cercare un gg di 3.000 like per nuovissimi video bellissimi quindi come hashtag di oggi Dillo tu Fede, ce lo so FIFA vendi Ho già detto un altro video Nuovo, hashtag nuovo Ma Non ho capito Anche io, vai inizia questa partita Inizia questa partita Io sono il PSG Lui è il M Contadino al Junior E ce l'ho io Ma noi non stavamo al PSG Ma ti è per il PSG Ma ti è per il PSG Ma non è salvarci Ah, io ho messo che cosa con Crisman Cavolini di Bruxelles Ma Vediamo la mia squadra Cross, Benzema Finizio Oh my god Hazard E' finita E' finita Pronto tutto pronto si inizia qui vi avendo ragazzi che ancora non mi ci trovo tanto bene penso Che cosa se fa Ma tutto accadere Ma tutto accadere Ma Ma Eh 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 Attenzione Già inizia Già inizia Iniziamo male eh Eh ho capito che Gioni di cebbi Ma basta eh Ragazzi io le finte le faccio tutte a casa Ma tu sei un bazzolino Eh mamma E basta Eh ma perché C'è Trocca la cavola Piano piano Ma ok campione Gioni Io non vi devo svegliare In tutte le battute che ho fatto non ho visto un copino di testa su calcio d'angolo tu fai un colpo di testa calciando la prima volta c'era non ho capito ragazzi già iniziamo male opera cavani c'è c'è qui oddio o solo come vedi avendo un compito ma di testa tesi perché a me dimmi che tu hai dimmelo dimmelo da qui oddio è caduto male capisce il prestigio cosa ok tutto biondo tutto come questo salto di maria o per la di maria per tutte a caso dove vende in giro e del di voi gioco signore papalo così non ho messo la fisica a pallone ma mi sembra che l'hanno d'olta boh appicciato donaldo non c'è il cristiano maggiori cosa vabbè ma oggi stai a 10.000 la base segna ovviamente segnò nema giugno è ok è scattato nema giugno ho mai sopporti passaggi del testo vivo mamma mia nema da bestia o e 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 bello 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 ballo madonna vai madonna fammi questo gol no 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 mi viene di testo di segna di testa meno ma ma ha rimbalzato ti stai piuttendo così sulla frigo no io voglio provare a fare tutto a caso eh si prese la palla e che adesso c'è di maria ben bapè ma che schifo moltissimi abbiamo in moto e tu ha ai casi in mezzo ma che cosa eh ma sono più belli di me questi giocatori ma ooooh di vero di vero si si piazzano GOOOOO aaaaaaaaaaaaaaa è un matadone cavani si libera in modo suave il difensore di pazzolino non c'ha capito niente si è buttato così è i goal 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 è go'll goal goal è go'll goal è go'll goal goal ecco le gole gole ok ragazzi perché ho fatto il piacciamento perché segni più facile ha detto che che ogni volta che infanzi la palla io non lo so fa ovviamente ragazzi fino a vendite pezzi la palla sempre gol siamo sempre segnalato ovviamente da portiere adesso questo giorno 1 1 che grande partita ragazzi sono veramente un big match di uefa cermis big gioni poi avuto 1 vogliamo 1 bapé 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 sarà solo aspetti ho dato sbagliato cavolo un bapé cavolo tanti milioni e mi fai così sbagli bapé come ti permetti come dimetti come vendono gli italiani joystick mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ti prego bello ok ma che cosa succede non lo so ma che è un passaggio a portiere hai vero ora attenzione di maria mamma mia o fa e questo è rosso ah non c'è rosso basta è giallo no non ci posso credere non ci posso credere dai la disiuto tu sei un giallino eh e tu seina sorbetta tu sei uno scantino o feaFeA feaFeAA ooooo Нет Narrator BacG www.bacG BacG 1 R R R la remontata profumo di vittoria mamma mia dovevo farciare adesso stai sotto fratello sei sotto adesso c'è modi l'hanno faccia no con la spalletta spalletti vai mo liberati di tutti liberati di tutti bella fra classe ma che succede non lo so ma che hai visto come tu non ho capito che stanno fa cavolo facciamo è un casino per conizioni di bambino 8 mo e poi quando stava il calcio i palloni per me la torta del settimio capito ma quando sapevo vivi con il pallone di prima nata volta non mi dico no se vuoi vettura butti la domanda che non fuori e non lo so fa e anche io non ho capito niente o cavoletti o cavoletti no più che la semisogna di alla ti giuro che ti regalava il canale si potete tua o mamma mia pugno pugnali in azzuma e ho detto parato gol 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 il pareggio ha fatto pure il battle flip cavolo 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 vada qua no ma la fortuna sempre dalla tua parte è la tua parte che stiamo a 2 2 non voglio pareggiare con te voglio vincere questa partita voglio vincere la basta oddio il buco il gioco il gioco il gioco il buco il gioco il gioco il gioco il gioco il gioco il gioco ai degni di prego che piede a zappa che c'hai c'è un piede a zappa rana rana che pizzo davanti perché di rulli così ho fatto due gol e poi mi diventa partita così no bella verisco bella veramente ok ok ultimazione mi prego mi prego cavolo in quella lui fatti metto una effettivamente fuori gioco ancora è mia ti prego ti prego ma l'ultimazione si ma poi si ti prego ti prego come fai come fai come fai se succede un casino stavanti da questa schietta di caldo ok finito so fa pure il gol all'ultimo prima partita di figlia vendi un bareggio bella partita complimenti bella partita spottiva ho col 2 non deve meglio ma vabbè nello stesso avevo dato questo assaggino di figlia vendi dal vostro pazzo mister king dei pazzi è tutto dal vostro pazzo vino principi dei pazzi è tutto vi ricordo potete seguirci su instagram pazzi se pazzo vino è facile trovarci tanti like mi raccomando sono per video e me la fate emozionante tanti like pollice in su commentare se voi vi commento i figlia vendi e ci vediamo al prossimo pazzo visto pazzo emozionante illustrissimo video bella ciao